E' close. Sono davvero lieto di rivolgervi un saluto con un grande apprezzamento per la dimostrazione di grande capacità operativa sviluppata questa mattina, anche se in termini, come è stato spiegato ridotti come tempo e come dimensioni, ma esemplare, significativa, davvero motivo di grande apprezzamento. L'apprezzamento non è soltanto per questa manifestazione di capacità di questa mattina, per questo momento così impegnativo e significativo, ma è per l'attività che esolgete costantemente, per l'impegno, per la dedizione all'Italia, per l'attività che esolgete. Ho fatto le mie congratulazioni al Ministro, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per l'efficienza e anche per l'integrazione dei reparti dell'esercito che hanno manifestato questa mattina, ancora una volta, capacità di integrazione e collaborazione integrata, efficiente. Un saluto ai lagunari, introsserta qui, in quest'altra laguna. Siete una specialità formalmente giovane, 72 anni dalla Costituzione, un po' meno della mia età. In realtà la vostra storia, la vostra esperienza, la vostra tradizione nazionale nasce tanti secoli fa, nasce dai fanti del mare del 1200 a Venezia e ne avete segno nel vostro uniforme e nel saluto San Marco. Avete reso onore a questa lunga storia, come dimostra anche la medaglia d'oro a valore dell'esercito ottenuta in Iraq. Per tutte queste ragioni esprimo grande riconoscenza all'esercito, a tutte le sue componenti, a tutti i suoi reparti e lagunari, quest'oggi particolarmente, con riconoscenza per quanto fate tutti quanti, giorno per giorno, per la sicurezza e la pace del nostro Paese, per la pace d'Italia e la sua sicurezza. Grazie per quel che fate. Grazie. Grazie.